Professor Pasquale Giunta, oggi termino iniziative per festeggiare questo importante anniversario del liceo classico Vitruve e Priglione e avete voluto invitare alcuni atleti, alcuni campioni olimpici che si sono allenati a Formia, ma a Formia si sono anche formati, hanno studiato in questa scuola. Sì, direi che questa intanto è la prima occasione, la prima volta che riusciamo a radunare un numero così importante di campioni che davvero hanno illustrato la storia del nostro paese, hanno dato l'uso alla storia del nostro paese e dello sport. Una serie di coincidenze, di circostanze, hanno fatto sì che questi studenti frequentassero il liceo classico di Formia con il combinato disposto della presenza del centro sportivo CONI Bruno Zauli. Abbiamo avuto forse tra i più grandi campioni della storia della nostra atletica, penso soprattutto a Berruti, sicuramente il più grande atleta insieme a Pietro Mennea dell'atletica del nostro paese, che appunto vinse la medaglia d'oro dei 200 metri piani nel 1960 a Roma, lo voglio ricordare, lo voglio sottolineare, davanti a tre velocisti afroamericani che detenevano da sempre i record di questo tipo di specialità. E niente, quindi questo intanto è l'ultimo passo, corona un po' tutti i festeggiamenti per il novantesimo, come abbiamo avuto quest'anno, anzi dall'anno scorso, con la presenza della Marco Longo che ha presentato il suo libro sulla lingua greca, poi i quattro giorni culminati con l'incontro con il professor Canfora nella palestra del liceo, abbiamo avuto una serie di appuntamenti categoricamente e volutamente con ex alunni e ex allievi del nostro liceo a tutti i livelli, sia che fossero conferenzieri, sia che fossero persone che hanno creato momenti di incontro e di socialità all'interno della scuola stessa. E oggi concludiamo, secondo me, degnamente con questi grandissimi campioni, insomma lo ricordo appunto che oltre ai Berruti, Giorgio Mazza, grande ostacolista, Eddie Ottos, anche egli medaglia di bronzo alle Olimpiadi del Messico del 68, Giuseppe Gentili, un personaggio polietrico davvero estroso che ha fatto anche l'attore, e quindi mi pare che degnissimamente noi concludiamo questo percorso di un intero anno che mette in luce ancora una volta che questa scuola non è stata soltanto fucina di grandi professionisti intellettuali, studiosi, ma anche di grandi atleti. E posso dirlo così, forse peccando un po' di retorica, credo che il rigore degli studi classici sia stato linfa per loro anche, per il rigore dei loro allenamenti, del loro addestrarsi, del loro training quotidiano nelle discipline sportive in cui sono accensi. E lo hanno detto, l'hanno detto sia Eddie Ottos, questa scuola ci ha aiutato, ci ha formato, questo rigore di cui tu parlavi ci ha anche consentito di superare anche i momenti di difficoltà negli allenamenti e poi nelle gare vere proprie. Devo dire che per me è stata anche una scoperta in parte, io ho fatto il liceo 10-12 anni dopo di loro, sapevo che in questa scuola c'era stato Berlivo Berrudi, c'era stato Eddie Ottos, Gentile, ma non sapevo di tanti altri che abbiamo scoperto e che adesso scopriremo la targa che li ricorda, anzi sono convinto che noi scavando ancora di più nei nostri archivi troveremo altri personaggi, altri campioni, però ripeto questa è la prima volta che possiamo essere soddisfatti di questo primo risultato. Grazie.